Siamo a Rossano Scalo, oggi conosciamo la redazione del giornale settimanale L'Ecco dello Ionio. Sono arrivati alla 58esima pubblicazione. Visitiamo questa redazione. Vincenzo Lapietra, giovane imprenditore rossanese, è l'editore dell'Ecco dello Ionio. L'Ecco era un sogno che avevo fin da ragazzo quando ero iscritto all'università, creare un nuovo organismo, un giornale che desse voce anche al territorio. Abbiamo lavorato su questo progetto parecchi mesi e siamo riusciti quindi a febbraio dello scorso anno con il primo numero. Perché? Perché il nostro territorio è un territorio bistrattato, tagliato da tanti problemi e essendo anche imprenditore, quindi investendo in questo territorio volevo che uscissero questi problemi, che si conoscessero tanti problemi. Sto problemi ai trasporti, problemi infrastrutturali, problemi alla sanità, tanti problemi dell'agricoltura e quindi volevo che questo giornale svolgesse questo ruolo. Dopo più di un anno abbiamo tratto un risultato che è quello di un giornale che è distribuito in quasi tutto il territorio, dall'Alto al Basso Ionio, con quasi 5-6 mila copie in tutto il territorio. È un giornale, voglio dire, giovane, essendo formato anche da giovane, abbiamo questa piccola redazione formata da due giornalisti, intende, più il direttore e da poco più di tre mesi abbiamo anche il nostro consulente esterno che ha dato più epevecità anche al giornale stesso. Spesso questo territorio riesce ad avere una visibilità soltanto per i fatti di cronaca o comunque per delle realtà piuttosto negative e lo sforzo forse è anche quello di far conoscere e di promuovere quello che è di buono, quello che è di positivo c'è in questo territorio. Ce ne sono parecchie cose che sono di positivo. Noi siamo un popolo di lamentele, ci lamentiamo sempre, però attraverso anche questo giornale abbiamo scoperto che ci sono parecchie cose positive, belle, anche sotto il punto di vista imprenditoriale. Io ho conosciuto anche da un anno a questa parte parecchi imprenditori, piccoli imprenditori, perché diciamo che la nostra economia si basa sulle piccole imprese, non sulle grandi imprese. E ho notato, abbiamo conosciuto attraverso anche le interviste di questi piccoli imprenditori che ci sono parecchie cose, quindi si può lavorare, noi crediamo in questo territorio. Ad un anno e tre mesi dall'uscita in edicola dell'Eco dell'Oionio, che tipo di bilancio si può trarre anche a livello di influenza, anche sull'opinione collettiva, soprattutto in un panorama editoriale che oggi come oggi non versa in una buona condizione? E questo è perfettamente ragione, poi dobbiamo mettere questo giornale in un contesto generale, un contesto regionale, sappiamo che la Calabria è l'ultima regione anche per lettori, ma non perché c'è ignoranza culturale, siamo pigri anche ad acquistare il giornale. Diciamo che il nostro giornale è un free press, quindi è gratis, non lo so se è una cosa buona o non buona. Fra poco, a breve, usciremo forse da settembre, ottobre, soltanto nell'edicole, con un prezzo irrisorio, anche per dare più credibilità al nostro giornale, perché dopo un anno e tre mesi, due mesi, come hai detto tu, sono molto contento. È ovvio che bisogna migliorare, ho notato che siamo anche fonte di altre inghese, di altri giornali, di altri quotidiani e questo mi fa veramente piacere, perché significa che abbiamo lavorato bene, significa che dietro c'è una grande squadra, dietro questo lavoro c'è una grande squadra e questo sono fiero, sono molto fiero. Luca Latella, direttore dell'Eco dello Ionio, è un settimanale, quindi ha dei ritmi di lavoro un po' diversi a quelli a cui siamo abituati. Come funziona il lavoro di redazione e come vi siete organizzati? Noi iniziamo a lavorare sin dal lunedì per uscire poi il venerdì, di solo del lunedì è giornata dedicata alle riunioni, sia al mattino che al pomeriggio, ci confrontiamo sulle idee, sviluppiamo progetti, programmi e tentiamo poi ovviamente di mettere su carta quello che poi fuoriesce dalla riunione. Riunioni che si basano sul progettare tutto il giornale, quindi dalla prima all'ultima pagina, si inizia con lo stabilire come organizzare la prima, perché poi ci vuole sempre fare una foto ad effetto, insomma noi che siamo settimanali siamo un po' diversi dai quotidiani, quindi cerchiamo sempre di essere un po' particolari. Con una foto è un titolo che richiami un po' il lavoro che noi facciamo durante la settimana e quindi il lunedì diciamo così ci si organizza, però già si comincia a scrivere perché poi essendo un giornale ovviamente di approfondimento e di inchiesta studiamo molto e quindi dedichiamo tanto tempo al reperimento dei fonti, di notizie, le interviste, che possa essere un amministratore o piuttosto che un'eccellenza perché a noi piace tanto dare spazio alla cultura e ai beni preziosi di questo territorio, insomma le eccellenze che offre questa terra, insomma e quindi iniziamo a lavorare, a scrivere, poi ci confrontiamo, rileggiamo ovviamente anche i pezzi fra di noi perché è giusto che si contribuisca un po' tutto tra idee perché siamo convinti che tre, quattro, cinque testi sono meglio di una e quindi ci mettiamo a lavorare intensamente durante tutti questi giorni Il venerdì e giovedì cominciamo, tra giovedì e venerdì cominciamo a curare la parte grafica, l'impaginazione e ovviamente la correzione delle bozze per poi produrre il giornale in un formato da mandare alla stampa il venerdì mattina diciamo così e di solito andiamo in stampa nelle prime ore del pomeriggio di venerdì per poi andare in distribuzione il sabato mattina Il cittadino come attende l'uscita del settimanale si vede anche dal riscontro della partecipazione, si attende, almeno personalmente mi occupo della pagina di cultura, c'è un'interazione ad esempio si chiama si dice magari si può approfondire l'argomento del castello di San Mauro perché è abbandonato, magari c'è una richiesta da parte di un gruppo, di un'associazione di cittadini si dice valorizziamo questa parte del centro storico e quindi diciamo la gente comunque il cittadino è interessato, accoglie il nostro documento perché comunque noi facciamo inchiesta andiamo a cercare la notizia non quella del quotidiano che quindi è già diciamo in qualche modo si spegne nell'intera giornata ma andiamo ad approfondire il discorso nel suo intimo per quanto mi riguarda l'aspetto culturale è quello di riscoprire ciò che noi abbiamo, le nostre bellezze architettoniche, ambientali, paesaggistiche, storiche soprattutto quindi nella conoscenza del territorio partendo da qui si può comunque creare anche turismo, una rete il nostro scopo è anche questo, partire da ciò che abbiamo per poterlo valorizzare con termini semplici e questa è la nostra chiave di lettura insomma la semplicità le nostre inchieste sono semplicemente dare un nome a un fenomeno, dare dei numeri, una consistenza e proporre ai lettori una chiave di lettura diversa di cose che altrimenti sembrano così cadute dal cielo oppure da interpretare come segno del fato tante inchieste sono nate in questo modo, per esempio l'inchiesta sul trasporto pubblico locale abbiamo indagato sui numeri che stanno dietro questo buco nero che abbiamo sostenuto essere più grande del buco della sanità e abbiamo cercato di capire quali sono i servizi per esempio offerti in base a questa elargizione di milioni da parte della regione Calabria e lì è usciuta fuori un'inchiesta importante, talmente importante che adesso si è aperto un caso non soltanto nella Sibaritide ma anche in Consiglio regionale quindi è una questione molto importante e l'abbiamo sollevata come ecodolo Ionio potrei citare il caso del ciclo integrato dell'acqua anche lì siamo andati a calcolare quant'è il costo, lo spreco che c'è all'interno dei comuni del territorio della Sibaritide per una gestione non corretta, non ordinata dal ciclo delle acque spesso nell'inchiesta, molto spesso, in abbinata al dato negativo che emerge aggiungiamo la comparazione con esperienze di successo che ci sono già in Calabria o nel resto d'Italia quindi diciamo adesso funziona così, il risultato è questo saldo negativo che spesso spariamo in prima pagina a fianco mettiamo un box dicendo però c'è l'esperienza pugliese, c'è l'esperienza lombarda, piemontese eccetera funziona così, quindi diamo anche un suggerimento in molti casi anche tecnico alle istituzioni e diciamo anche alla società per accorgersi di questi ingranaggi nascosti Quindi non solo un giornale di inchieste ma anche un giornale di proposte che si prefigge quindi anche l'obiettivo di dare un contributo a questo territorio e questo anche in altri settori, prendiamo ad esempio il settore della cultura ma anche quello della valorizzazione turistica Quello per noi è l'altro pilastro fondamentale, su quello siamo molto più non soltanto dichiaratamente ma proprio dimostriamo di essere ottimisti dall'inizio alla fine di ogni pezzo mi riferisco in particolare alla pagina fissa che abbiamo e che dedichiamo alle eccellenze del territorio lì c'è un obiettivo sotteso anche ad ogni nostra inchiesta che andiamo a scovare queste eccellenze e cioè quello che noi chiamiamo, anzi che noi mutuiamo da altri, il ritorno alla terra anche in questo caso c'è una filosofia di fondo noi riteniamo che il sud sia sud, non sia un non ancora nord e quindi da questo punto di vista andiamo a scoprire quei giovani imprenditori in modo particolare uomini e donne che hanno deciso di o di ritornare dopo gli studi universitari o di non partire proprio, mutuando il meglio dell'esperienza dei propri genitori e investendo sulla terra e per terra intendiamo non soltanto il mondo agricolo che è già quella la parte più importante ma proprio in questa terra quindi ci interessano proprio i casi del passaggio generazionale ecco il figlio, il nipote che riprende l'esperienza del papà o del nonno e dimostra che qui è possibile non soltanto lavorare, non soltanto stare bene con la propria famiglia ma addirittura produrre reddito e creare occupazione quindi questo per noi è il messaggio più importante che settimanalmente nella pagina delle eccellenze tentiamo di dare Il sito è sempre stato il nostro asso nella manica per un formato come il nostro che è settimanale diciamo che è lo strumento giusto per un meccanismo di fidelizzazione del lettore tant'è che abbiamo sempre avuto molti riscontri positivi e negli ultimi mesi in particolare abbiamo registrato un numero di visualizzazioni settimanali pari anche a 30.000 con picchi di visualizzazioni giornaliere anche di 7-8.000 visualizzazioni in sei mesi in particolare abbiamo registrato visualizzazioni di 300.000 persone e 100.000 utenti unici quindi insomma sono numeri importanti che ci rendono sempre più orgogliosi anche dal punto di vista social noi abbiamo Facebook che è un nostro grande alleato anche lì abbiamo una portata di almeno 60.000 in media copertura dei post con picchi dei singoli post pubblicati anche di 30.000-40.000 a quanto riguardano determinate tematiche ci siamo infatti resi conto che aspetti quali l'eccellenza che sia umana piuttosto che di risorse frutti del territorio comunque la gente interagisce alla gente piacciono queste cose per cui abbiamo veramente dei riscontri molto positivi Grazie